buongiorno nel vangelo di oggi luca capitolo 11 dal versetto 5 al 13 ci insegna a valorizzare un aspetto particolare della preghiera ci insegna a chiedere a domandare si la preghiera di richiesta e la parabola che luca propone di un amico che va importunare un altro amico nel pieno della notte suggerisce una vera e propria insistenza ci invita a essere insistenti con dio chiedere quello di cui sentiamo di avere bisogno qualcuno potrebbe dire che chiedere per se stessi parrebbe un atto di egoismo di egocentrismo e invece non è così la preghiera di richiesta la preghiera di supplica nasce dalla consapevolezza di essere bisognosi di essere poveri di non avere tutto quello di cui abbiamo bisogno dandocelo da noi stessi la preghiera di richiesta apre la nostra condizione di creatura alla presenza del dio onnipotente ed è quindi un atto di umiltà questo è importante se nasce davvero da lì allora comprendiamo anche il passaggio successivo quando gesù dice che il padre sa già quello di cui abbiamo bisogno e allora perché chiedere se lui sa già ma proprio perché nel chiedere noi spalanchiamo le porte al desiderio di accogliere quello che lui ci dona sì la preghiera di richiesta non è un indirizzare dio seconda dei nostri interessi ma è un rendere il nostro cuore la nostra vita tutta aperta ad accogliere il dono che già ci precede dio è continuamente in azione per donarci ciò di cui abbiamo bisogno siamo noi che tante volte rimaniamo chiusi nella presunzione di poter fare da soli o addirittura nell'illusione di essere in qualche modo noi a dover dare qualcosa a dio qualcun altro invece si sente così piccolo da credersi non meritevole di nulla ma forse anche lì si nasconde un po di superbia ed invece il chiedere apre il nostro cuore alla capacità di accogliere il dono traboccante di dio è chiaro dunque che non riceveremo a volte in dono quello che ci siamo immaginati o quello che i nostri sentimenti ci suggeriscono però riceveremo sempre quello di cui veramente abbiamo bisogno per il nostro bene perché nessuno conosce il figlio come il padre e nessuno conosce la creatura se non il creatore che l'ha creata affidiamoci dunque con fiducia a dio e chiediamo senza paura alla fine aggiungiamo sempre con gesù si faccia o padre la tua volontà lì sta la nostra gioia buona giornata lì sta la nostra gioia buona giornata